Allora, buongiorno nuovamente. L'obiettivo della lezione di oggi è quello di introdurre e capire come funzionano le collezioni, quello che viene chiamato il Collection Framework. Il Collection Framework è un insieme di classi e interfacce che implementano dei tipi di dato astratto, quindi avete presente le varie tipologie, oltre a definire l'interfaccia, quindi l'insieme di metodi che devono fornire. E definiscono un insieme di algoritmi, ad esempio algoritmi di ordinamento, che possono essere di utilità generale. La classe Arrays, sostanzialmente, anche se non del tutto, rientra in questo Framework di collezioni. Tutte le classi che fanno parte di questo Framework si trovano in un package che si chiama java.util. e tutte le classi, a partire da Java 5, cioè dal momento in cui nel linguaggio Java sono stati introdotti i tipi generici, usano i tipi generici e quindi sono definite sia come classi che come interfacce generiche. Piccola panoramica, queste sono le principali interfacce che voi potete trovare all'interno del Framework delle collezioni. Commento molto veloce, dopodiché iniziamo a vedere in pratica cosa significano. Allora, abbiamo una classe di base, Iterable, che in realtà abbiamo già menzionato, che è quella che ci consente di fare delle iterazioni. L'obiettivo di questo Framework di collezioni è definire tutte le interfacce che possono essere utilizzate per andare a utilizzare dei contenitori di oggetti. Quindi la funzionalità di base di qualunque contenitore di oggetti è quella di essere scandibile, iterabile. Quindi Iterable è l'interfaccia di base di tutte le nostre collezioni. Successivamente, un po' più raffinato, è l'interfaccia Collection. Mentre Iterable definisce solamente i metodi per andare a scandire gli elementi, Collection definisce anche dei metodi per aggiungerli. Quindi ha sostanzialmente un metodo add che permette di aggiungere gli elementi. Collection poi è un'interfaccia che ha tre sottoclassi che sono set, queue e list. Che rappresentano dei contenitori che sostanzialmente corrispondono al concetto di insieme, ovvero un contenitore in cui non ci sono elementi duplicati, quindi un elemento è presente o meno. Una coda, ovvero un contenitore in cui elementi sono mantenuti in un certo ordine, e poi ci sono diversi tipi di ordine, e poi l'interfaccia list, che è quella un pochettino più comune, che permette di andare a gestire una lista in cui io posso accedere agli elementi in un ordine. Quindi gli elementi sono ordinati, io posso andare a utilizzare un indice e quando faccio la scansione gli elementi vengono visitati in un dato ordine, ben definito. Normalmente è l'ordine con cui ho inserito gli elementi. C'è anche un'interfaccia particolare che si chiama sorted set, che permette di andare a gestire degli insiemi in cui gli elementi sono mantenuti, ordinati. È diversa da una coda, perché in una coda io posso avere lo stesso elemento più volte, mentre invece in sorted set gli elementi sono riportati una volta sola, quindi non posso inserire due volte lo stesso elemento. Tutte queste sono interfacce di quelli che chiamiamo contenitori di gruppo, ovvero mettiamo degli elementi dentro, sono, se volete, l'evoluzione di un array. Invece di avere l'array posso avere questi oggetti che implementano queste interfacce che sono un pochettino più flessibili. Oltre ai contenitori di gruppo abbiamo anche quelli che si chiamano i contenitori associativi e quindi questi contenitori fanno capo a un'interfaccia fondamentale che si chiama map, che permette di fare un mapping tra una chiave e un valore. Probabilmente in dei corsi di programmazione, algoritmi di programmazione avanzata li avete chiamati dizionari, però l'idea è quella. Quindi ho una memorizzazione non di un singolo elemento, come nei contenitori di gruppo, ma bensì di coppie di oggetti. E quindi una di queste è la chiave che mi permette di andare a recuperare quello che è il valore. Abbiamo poi una variante un pochettino più specifica delle mappe, che sono le mappe ordinate in cui gli elementi vengono mantenuti in ordine. Altrimenti non sappiamo nulla sull'ordinamento degli elementi che vengono messi nelle mappe. Domanda, quindi tabelle hash? Sì, le tabelle di hash sono implementate in classi che implementano l'interfaccia map. Esattamente. Ma anche alberi binari. Ci sono in Java due implementazioni fondamentali delle mappe, che sono per l'appunto le tabelle di hash e gli alberi binari. Tabelle di simboli. Dipende un po' da cosa intendi per simbolo. L'idea è che io associo un valore, che può essere qualunque tipo di oggetto, a una chiave. E data la chiave posso recuperare il valore. Questa è l'operazione fondamentale che mi consente di fare una mappa. Poi posso implementare tabelle di simboli, ma posso anche fare delle cose anche più estese rispetto a delle semplici tabelle di simboli. Questo è quello che ci offre l'interfaccia del framework delle collezioni. Non vi vado a menzionare subito le classi, perché vedremo poi man mano che ce ne sono diverse. Ma l'idea è, date queste interfacce per ciascuna di queste interfacce. Adesso, a parte quelle molto generiche, tipo i Terable e Collection, per ciascuna di queste interfacce ci sono diverse classi che le implementano. Andiamo quindi a vedere come funzionano. Iniziamo dalle liste, che sono quelle più comuni, e che abbiamo anche riscritto esplicitamente quando le abbiamo usate come esempio per i nostri esercizi nelle lezioni precedenti. Allora, vado a crearvi un nuovo, una nuova classe di esempi. che vado a chiamare main, che è con un main in cui vado a definire le mie liste. Come funzionano le liste? Data una lista, abbiamo visto che sono tutti interfacce generiche, quindi una lista avrà un parametro di tipo, che mi dice qual è il tipo degli elementi che posso inserire nella mia lista. È assolutamente analogo all'esempio che avevamo scritto noi esplicitamente la volta scorsa. Quindi se ho una lista di stringhe, la dichiaro in questo modo, ok? Parole. Quando faccio list, ovviamente non è nel package java.lang, quello importato di default, ma si trova in java.util. Attenzione che la parola list, come potete facilmente intuire, è molto diffusa e quindi troviamo una classe che si chiama list in tanti package diversi. Attenzione a importare quello giusto. In questo caso java.util. E se importate quello sbagliato, vi ritrovate con una classe o un'interfaccia che hanno dei metodi diversi da quelli che ci attendiamo. Per il momento io non vado a creare questa lista, ma metto uguale a null, ok? Così non ci concentriamo sulle specifiche implementazioni della lista, ma ci concentriamo sull'interfaccia. E poi ci sono due classi fondamentali che implementano l'interfaccia list che vedremo tra poco. Una volta che ho una lista, che cosa posso fare? Ovviamente posso aggiungere elementi. parole.add. La funzione add, il metodo add, ha diversi overload. L'elemento, la versione principale è quella che ci permette di aggiungere una semplice parola, ok? Ok. 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 Ovviamente possiamo aggiungere tante parole nella nostra lista. Parola.add. Ok, quindi metodo add, semplice, la versione più semplice, ci permette di dire aggiungo un certo elemento alla lista. Una volta che ho gli elementi alla lista, se ci ricordiamo che lista, che la classe list, estende la classe collection, la quale a sua volta estende la classe iterable, immediatamente abbiamo la possibilità di capire che con un for string P, in parole, posso andare a system out print, P. Quindi con questo vado a stampare tutte le parole. Domanda, non serve la new? Sì. Allora, ovviamente io qui devo andare a fare l'inizializzazione, ma per il momento ho messo null. Come vi dicevo, per il momento concentriamoci sull'interfaccia e quali sono i suoi metodi. Ovviamente se io eseguo questo codice e mi dà un null.3 exception immediatamente qui, infatti il warning mi dice, attenzione questo è un null. Dopo ragioniamo su quali sono le classi che posso utilizzare per implementare questa interfaccia. Quindi in questo modo io aggiungo i vari elementi alla mia lista. esiste anche un'altra variante di add che permette di aggiungere un elemento in una certa posizione. quindi nostra, e lo vado ad aggiungere in posizione 3 usate non parola ma parole, abbiamo detto, la lista usate add l'indice e poi l'elemento da aggiungere. Guardate, avevo scambiato i parametri. Quindi in posizione 3 vado ad aggiungere un certo elemento. Quindi se a questo punto lo stampo ottengo la lista con in più questo elemento aggiunto in posizione 3 e con l'elemento 3 o eventualmente quelli successivi spostati in avanti in una posizione. è una lista quindi l'inserimento lo riesco a fare facilmente. A questo punto usando le liste io praticamente vado a sostituire tranquillamente gli array. Posso aggiungere degli elementi non ho la necessità di andare a definire una dimensione di partenza lì posso scandire esattamente come faccio con gli array. Ovviamente l'iterazione la posso fare così col costrutto for each ma posso anche farla con un for int i uguale a 0 i minore di parole punto e qui scusate non è l'entma size più più i e poi il codice che aveva messo prima quindi di stampa quindi posso fare l'iterazione con il for each oppure con l'indice esattamente come avrei fatto prima quindi qui parole per accedere a un certo elemento non posso utilizzare le quadre ok non posso fare parole di i perché in java io non posso ridefinire il significato degli operatori ma devo andare a utilizzare un metodo che si chiama get a cui passo l'indice quindi è leggermente più scomodo rispetto all'indicizzazione tramite le quadre ma non particolarmente e se utilizzo il for each non c'è nessuna differenza rispetto a un array a questo punto faccio un passo indietro come osserva qualcuno di voi manca l'inizializzazione ok ci sono sostanzialmente due possibili classi che posso utilizzare per andare a implementare delle liste una si basa sulle liste linkate l'altra si basa su un array che poi viene di volta in volta ridimensionato alla necessità la prima si chiama linked liste ovviamente anche questa è un'interfaccia scusate è una classe generica esattamente come liste è un'interfaccia generica oppure l'alternativa si chiama array liste ovviamente devo andare a importare queste due da java utile quindi o una o l'altra domanda in termini di prestazioni è più oneroso accedere a un particolare elementi in una lista piuttosto che in un array ovviamente se utilizzo un indice e voglio accedere a una lista che è basata su un array è molto più facile rispetto a una lista linkata ma torneremo poi più avanti sulle prestazioni perché entrambe queste classi hanno vantaggi e svantaggi quindi dipende molto dal tipo di operazione che volete fare attenzione il grosso vantaggio è che entrambe queste classi implementano comunque l'interfaccia list e quindi da un punto di vista funzionale sono assolutamente equivalenti quindi le operazioni che faccio su una linked list piuttosto che su una array list sono esattamente le stesse e mi danno gli stessi risultati quello che cambia sono ovviamente gli aspetti di efficienza in termini di memoria e in termini di tempo per svolgere diverse operazioni quindi uno o l'altra se non abbiamo particolari motivi per scegliere l'una o l'altra scegliamo quella che è il nome che ci sta più simpatico ok tanto in termini di funzionalità sono esattamente più valenti vi faccio notare anche un'altra cosa io ho definito parole di tipo list inizialmente per dire concentriamoci sull'interfaccia piuttosto che sulla classe specifica perché tanto le classi sono sostituibili in generale la raccomandazione è di utilizzare sempre delle variabili o degli attributi non di tipo linked list o array list ma bensì di tipo list o una qualunque delle interfacce che ci servono perché perché sostanzialmente questo ci permette di andare in un attimo a rimpiazzare una linked list con un array list o viceversa senza influenzare in alcun modo tutto il resto del codice ok attenzione perché questo è un grosso vantaggio quindi io posso scegliere dopo cosa fare e sono sicuro che tutto il resto del codice funziona perché in realtà il compilatore ha già controllato che sia compatibile con list se invece di dire che parole di tipo list dico che di tipo linked list potrei andare a utilizzare un metodo che è presente nella classe linked list ma non nell'interfaccia e quindi nel momento in cui vado a sostituire la linked list con l'array list mi trovo un errore invece in questo caso io ho la sostituibilità perfetta di una classe con l'altra perché tanto chi utilizza quelli passa attraverso l'interfaccia che è comune a entrambe a questo punto abbiamo la linked list e andiamo a seguire il nostro codice quindi se no scritto delle stupidaggini dovremmo avere ah scusate qui ho usato un print invece di un print ln e quindi mi stampa tutto di seguito però il risultato è sostanzialmente quello che ci saremmo aspettati quindi una parola nella lista poi faccio l'add in posizione 3 quindi vado sostanzialmente anche qui gli indici partono sempre da 0 quindi l'indice 0 è 1 l'indice 1 è parola l'indice 2 è nella l'indice 3 è lista quindi se vado a inserire come faccio qui in posizione 3 sostanzialmente vado a spostare in avanti una posizione lista e vado a mettere la parola nostra subito prima e ottengo questo e ultima iterazione sostanzialmente faccio l'iterazione non con il forice ma con l'indice e ottengo ovviamente lo stesso risultato ma su questo c'era poco da dubitare quindi l'idea generale è vado a utilizzare le liste per fare tutte le operazioni che finora abbiamo fatto utilizzando gli array il motivo è molto semplice non ho problemi in termini di dimensioni se conosco già in anticipo le dimensioni posso tranquillamente utilizzare un array non ho invece nessun vincolo se utilizzo una lista e in questo caso sono libero di aggiungere elementi quanti ne voglio quindi molto più flessibile rispetto agli array sulle liste posso fare abbiamo visto l'operazione di aggiunta posso fare l'operazione di scansione qui l'abbiamo fatta l'abbiamo vista tramite il nostro insomma l'interfaccia iterable che praticamente ci consente di andare a prendere un contenitore e iterarlo utilizzando poi un iteratore inascosto potremmo utilizzare noi un iteratore in maniera esplicita cosa che veramente si fa nel senso che è complicato e non ci dà grossi vantaggi rispetto a utilizzare un costrutto for each possiamo aggiungere sia in una posizione che sostanzialmente in coda l'aggiunta in una lista viene sempre fatta in coda a meno che vada a specificare un indice e ovviamente posso andare a eliminare gli elementi quindi posso andare facciamo qua così poi vediamo il risultato posso andare a fare un scusate parole punto remove e qui posso andare a dire che voglio cancellare un indice zero per esempio cancello il primo elemento posso anche andare a cancellare un particolare elemento perché all'interno delle liste io ho la capacità di andare a capire se un certo elemento è presente per cui posso in generale data una lista definire di trovare l'indice a cui si trova un particolare elemento quindi parole punto index of e qui passo l'oggetto a cui voglio di cui voglio verificare la posizione per cui ad esempio nostra dopo aver eliminato l'elemento finisce in posizione 2 web queste sono le operazioni principali che io posso fare su una lista e non mi richiedono particolari problemi il grosso vantaggio è che io posso tranquillamente farle indipendentemente dal fatto che sotto ci sia una linked list piuttosto che una array list il risultato è lo stesso domanda quindi add, remove, size, get, index of fanno tutti parte non di java.util ma di java.util.list quindi sono tutti metodi dell'interfaccia list che poi sono implementati ovviamente in maniera diversa dalle classi linked list e array list domanda in questo caso nel caso dell'index of viene fatto il confronto con i riferimenti o con gli oggetti no questo viene fatto viene basato sostanzialmente equals quindi fa un confronto tra oggetti scusate tra il contenuto degli oggetti non come riferimenti se restituisce meno uno significa che la parola cercata non è presente nella lista quindi ho cercato una parola che non c'era poi l'ha scritta male e quindi il risultato è che ve lo riscrivo qua sotto nel caso in cui vada a cercare non c'è e meno uno quindi posso andare a vedere se un elemento è presente all'interno di una lista semplicemente con l'index of e confrontandolo col valore meno uno e quindi fa una ricerca intelligente nel senso che non usa i riferimenti in modo che il confronto venga fatto sul contenuto e non sul sul mutatore all'oggetto quindi io posso cercare un oggetto uguale a quello che passo non necessariamente lo stesso e recuperare l'indice ok attenzione quando voi fate un'iterazione a rimuovere elementi all'interno di una lista qui se voi fate un'iterazione qui e provate a fare allora il remove funziona sia con l'indice che con l'oggetto ok in effetti se c'è l'index of una volta che ho l'indice una volta che ho l'oggetto posso recuperare l'indice quindi fare il remove tramite l'indice però se io faccio parole appunto remove di p quello che ottengo è concurrent modification exception cosa vuol dire? che mentre è attiva una scansione un'iterazione su una lista io non posso andare a modificare la lista ok perché perché potrei essere in un certo istante su un elemento che viene cancellato oppure mi trovo su un elemento che viene cancellato quello successivo quindi in generale per evitare che la scansione fratta tramite un iteratore possa essere possa dare dei risultati aleatori normalmente quando c'è un iteratore attivo e il costrutto forici di fatto usa un iteratore di nascosto non posso andare a rimuovere elementi ok lo potrei fare con con direttamente dall'iteratore ma non posso togliere gli elementi da una lista mentre la sto scandendo è una garanzia di sicurezza che mi impedisce di fare di fare questa operazione mentre invece se lo faccio con un indice sì nel senso che non ho un iteratore attivo e quindi non viene fatto nessuna nessuna verifica e quindi se vi capita di trovarvi un'eccezione di questo tipo quindi con car modification exception sappiate che è dovuto al fatto che mentre state scandendo una lista avete anche cercato di rimuovere un elemento e quindi non non funziona vi dà questo problema con l'indice sì con l'indice lo posso fare perché non c'è un un il controllo non viene fatto nel senso che non c'è un iteratore attivo e quindi sostanzialmente la lista non può avere modo di sapere che sto facendo una scansione dell'array e e quindi mi ritrovo a quindi in questo caso non ho un errore perché non ho un iteratore attivo ho un indice quindi se cancello l'elemento su cui mi trovo sostanzialmente viene sostituito da quello precedente ok e il risultato è che nella scansione lo salto ok se sto facendo una scansione degli elementi di una lista e mentre mi trovo su un certo elemento quello viene cancellato al suo posto viene messo l'elemento successivo quindi io vado avanti e l'elemento che avrei scandito successivamente non c'è più nel senso che non lo vedo perché è andata la posizione di quello prima ma io quello prima l'avevo già letto quindi questo è il motivo per cui il iteratore mi attiva questo meccanismo di sicurezza che mi impedisce di andare a cancellare gli elementi mentre sto facendo una scansione se io utilizzo un indice la lista non può sapere che sto facendo una scansione perché utilizzo il metodo get il metodo get è isolato quindi non ha nessuna informazione però anche in quel caso se io vado a rimuovere un elemento mentre mi ci trovo sopra è ovvio che gli elementi scorrono e quindi per dire me ne salto uno alla prossima iterazione quindi in generale quando uso il for each mi viene segnalato un'eccezione quando uso un indice non viene segnalato niente ma tendenzialmente può essere un errore e quindi in generale la scansione scusate il controllo non viene fatto sull'elemento specifico ma viene fatto in generale sul delete perché non è soltanto quell'elemento ma se io ne cancello anche uno precedente per dire il primo comunque mi ritrovo a saltare un elemento nella scansione perché vengono tutti fatti scorrere di una posizione quindi è un qualcosa di molto particolare nel senso che raramente uno scandisce una lista mentre la cancella però può succedere e in quel caso l'eccezione che viene generata è questa quindi se vi capita sappiate che in maniera magari non volontaria però avete cancellato un elemento di una lista mentre lo stavate scandendo attenzione che non è sempre facile come in questo caso perché magari state scandendo una lista all'interno della scansione chiamate un metodo a cui passate alla lista stessa e all'interno di quel metodo viene fatta un'operazione di remove quindi non è detto che sia tutto facile e banale come in questo caso però la causa di quel tipo di eccezione è sempre invariabilmente il fatto che mentre c'è un iteratore attivo qualcuno ha cercato di cancellare un elemento dalla lista cosa che in generale ci può portare a una scansione non necessariamente ripetibile ok quindi questo per quanto riguarda le liste esattamente come avevamo a disposizione dentro la classe non riesco a disabilitare la chiamata allora esattamente come all'interno della degli array avevamo per gli array avevamo la classe array qui abbiamo una classe analoga con tutti i metodi per le varie operazioni a domanda come mai funziona cioè come mai con l'indice non da problemi perché l'eccezione è scatenata dal fatto che c'è un iteratore attivo ok un iteratore che non ha ancora finito la scansione con l'indice io non posso sapere che c'è qualcuno che sta facendo una scansione perché viene chiamato il metodo get ma non ho nessun modo io lista di sapere che qualcuno sta facendo una scansione mentre invece se c'è un iteratore attivo sì lo posso sapere perché c'è l'iteratore che non ha ancora raggiunto la fine e quindi come per gli array abbiamo la classe arrays per il frame delle collezioni abbiamo la classe collections che definisce una serie di metodi tra cui sort per cui posso andare a fare un sort di parole ok e posso stampare le parole a differenza scusatemi il metodo il metodo sort funziona esattamente su le collezioni in generale quindi in particolare le liste esattamente come funziona sugli array quindi passo la lista e questa viene ordinata usando l'ordinamento naturale ovviamente c'è la variante anche con il comparatore e poi posso stampare le parole a differenza degli array quando io stampo una lista questa viene stampata bene in maniera leggibile quindi se io vado ad eseguire il risultato è quello che vediamo qui in fondo quindi lista nella nostra parola attenzione è bene ricordarsi che quando io faccio un ordinamento l'ordine di partenza me lo sono perso quindi se le parole che erano messe all'interno della lista erano avevano un ordine significativo il risultato è che viene completamente perso perché a questo punto l'ordine in questo caso è alfabetico domanda quindi sia linked list che a realist implementano il metodo to string esattamente e il risultato del metodo to string è quello di stampare quadre l'elenco degli elementi quindi chiamando il metodo to string dei singoli elementi e poi chiuso a quadra quindi ovviamente questo funziona se gli elementi che stanno nella mia lista hanno un metodo to string se non ce l'hanno ho quadra classe chiocciola l'hashcode eccetera però comunque vedo gli elementi che stanno nella lista se avessimo avuto una classe di studenti avremmo dovuto specificare l'ordinamento allora dipende se la classe studente implementa comparable oppure no se implementa comparable viene utilizzato quello come criterio di ordinamento altrimenti io posso andare a specificare un criterio di ordinamento con un comparatore per cui ad esempio posso fare collections punto sort parole virgola ad esempio o a e b che sono le mie due stringhe che voglio andare a confrontare posso andare a confrontarle facendo a punto l'ent meno b punto l'ent quindi vado ad ordinare non in base all'ordinamento alfabetico ma in base all'ordinamento alla lunghezza delle parole quindi in questo caso se stampo le mie parole dopo questo ordinamento sì in realtà allora tolgo il remove di una che era quella più più breve però essendo maiuscola veniva messa prima se così riusciamo a fare l'esempio che funzioni quindi in questo caso ordino nel primo caso ordino alfabeticamente quindi una va a finire in fondo nel secondo caso ordino per lunghezza e quindi una finisce come primo elemento domanda perché in questo caso non ci sono problemi è la jvm che capisce che tipi utilizzare allora no non è la jvm che capisce che tipi utilizzare ma è il compilatore quindi la jvm ha già tutto pronto chi capisce che tipi utilizzare è il compilatore perché perché in questo caso se andiamo a vedere la sort vedete dichiarata in questo modo quindi il metodo sort in collection è dichiarato come public void sort come è un metodo generico list di t l virgola operator di unknown super t e questo è il comparatore ovviamente qui non è importato ma se vogliamo corretto è questo quindi sendo sort dichiarato così il compilatore vede che questa parole è una lista in cui t è uguale a string di conseguenza capisce che dal primo parametro t in realtà è string e quindi qui va a mettere un comparatore di qualunque cosa super string per adattare per Azure in realtà qui è come se mettessimo direttamente string string e quindi a e b automaticamente il compilatore capisce che devono essere di tipo string questa è l'inferenza di tipi che viene fatta quando abbiamo a che fare con metodi o classi generiche e viene fatto tutto dal compilatore quindi il bytecode che viene generato già prevede che quelli siano del tipo corretto ok a questo punto una piccola precisazione su le prestazioni vi riprendo le slide così evito di riscrivere tutte le cose da zero quando abbiamo a che fare con le liste abbiamo detto che abbiamo allora domanda le prestazioni abbiamo visto che l'anonymous class è meglio di una lambda in un'app complessa allora l'anonymous class e la lambda sono praticamente equivalenti in generale si preferisce utilizzare una lambda perché è molto più compatta quindi tendenzialmente non usiamo classi anonime esplicitamente ma usiamo delle lambda perché sono decisamente più compatte quando abbiamo delle liste la scelta come accennavamo prima tra linked list e array list dipende dalle operazioni che vogliamo fare le due le due classi hanno diverse complessità se andiamo a prendere un array list l'operazione di get è costante nel senso che è indipendente dalla dimensione dell'array che sta dietro a list l'add in prima posizione quindi in testa quindi add 0 ha una complessità che è lineare nel senso che devo shiftare in avanti tutti gli elementi e poi aggiungere il nuovo l'add in coda invece ha una complessità costante non dipende quanti elementi ho in lista vado a prendere l'elemento n più 1 e lì vado a mettere il mio nuovo elemento viceversa quando ho una una linked list l'operazione di get dato un indice è lineare perché devo scandire n elementi prima di arrivare a quello giusto l'aggiunta in testa invece ha una complessità costante perché sostanzialmente aggiungo un elemento e lo collego alla testa invece che in fondo e l'add che è un'aggiunta in coda sostanzialmente mi permette di fare la stessa operazione andando a collegare l'elemento in fondo quindi di nuovo è indipendente dal numero di elementi che ci sono ok per cui in base al numero di elementi presenti può cambiare l'inserimento in testa della array list e l'operazione di get per la linked list quale operazione faccio più frequentemente nella mia applicazione in base a questa informazione andrò a scegliere l'una piuttosto che l'altra qui ci sono un po' di tempi di operazioni di get casuale all'interno di una di una linked list di una array list con dimensioni che vanno dai 2000 ai 10.000 elementi vedete che non è proprio una linea perché essendo tempi misurati direttamente ci possono essere dei piccoli errori di misura qui se c'è un programma che viene eseguito contemporaneamente il tempo sale un po' però il tempo sale grosso modo linearmente per la linked list mentre invece vedete che oppure non vedete che l'array list è una linea che si sovrappone quasi all'asse orizzontale quindi l'operazione di get su un array list è decisamente più efficiente domanda ma in array list non devo riallocare il vettore con il rischio di avere prestazioni peggiori allora attenzione nell'array list qui stiamo parlando di get quindi quando devo fare un'operazione di get non rialloco nulla nella slide precedente che era scusatemi questa è di nell'add in coda tendenzialmente costante può succedere che ogni tanto debba riallocare tutto però l'operazione di riallocazione di copia della memoria tendenzialmente è molto efficiente e quindi non devo andare a scandire gli elementi e copiarli uno per uno ma sostanzialmente faccio un'allocazione di memoria che di solito non dipende dalla dimensione della memoria e copio un blocco di memoria in un altro e questa operazione di solito non dipende dalla dimensione del blocco della memoria l'add senza parametri è equivale a un'aggiunta in coda alla lista quindi qui in realtà non è senza parametri ma è con un unico parametro che è l'oggetto l'elemento da mettere ok quindi sì qui è l'add con un parametro che è l'elemento che vado ad aggiungere ovviamente dipende anche dalle dimensioni del mio degli oggetti perché se invece voglio fare un'add in prima posizione quindi l'add in testa vedete che qui le le complessità si invertono quella orizzontale la linked list e quella che sale linearmente e invece la ray list il punto è che comunque la linked list richiede di allocare della memoria quindi fino a una certa dimensione della mia linked list la ray list è comunque più efficiente anche se devo andare a spostare tutti gli elementi ok quindi non sempre devo andare a guardare diciamo quella che è la complessità agli asintoti ok se ho pochi elementi la ray list è sicuramente più efficiente rispetto alla linked list perché nella linked list devo comunque fare una locazione di memoria che un po' di tempo mi porta via quindi queste operazioni mi possono richiedere dei tempi che crescono con il numero di elementi però nel caso della ray list sono molto bassi quindi la costante con cui cresce è bassissima quindi rispetto ai tempi necessari per l'allocazione possono darmi comunque dei vantaggi ai fini dell'esame in questo corso non sarà richiesto scegliere tra ray list e linked list quella più efficiente perché l'efficienza non verrà valutata così nel dettaglio ok però sappiate che quando scegliete una delle due andate ad avvantaggiare un certo tipo di operazioni rispetto ad altre quindi attenzione a quello che scegliete perché può portarvi un risultato abbastanza diverso in termini di prestazioni intendenzialmente la mia raccomandazione è non preoccupatevi nella prima versione del software che andate a scrivere di scegliere quella giusta avete poi tempo dopo per andare a cambiarla inizialmente preoccupatevi delle funzionalità e le funzionalità per la ray list e per la linked list sono sostanzialmente intercambiabili domande ci sono dei corsi oltre a questo in cui ci sono prestazioni del codice no tendenzialmente no cioè non c'è nessuna valutazione allora che sapere non ci sono corsi che valutano il risultato in termini di prestazioni del codice effettivo è ovvio che ci sono delle scelte palesemente sbagliate ma la scelta tra linked list e la ray list non è probabilmente tra quelle finché parliamo di complessità lineari il problema è relativamente limitato è ovvio che ne parleremo se dobbiamo fare una ricerca quindi andare a cercare un elemento utilizzare una lista piuttosto che utilizzare una mappa ecco allora lì effettivamente le differenze si vedono ma in termini di questo a meno che non cerchiate il massimo delle prestazioni non non ci sono grandissime differenze ok torniamo al nostro codice per un'ultima cosa che volevo dirvi su questo ovviamente quando andiamo a fare un ordinamento viene modificata la lista quindi mi perdo la lista di partenza ok per questo motivo a volte può essere comodo non ordinare la lista ma bensì ordinarne una copia come faccio a copiare una lista lo posso fare in maniera abbastanza insomma veloce facendo un list string copia uguale uguale a new usiamo la linked list perché è quella che abbiamo utilizzato finora aperta chiusa e qui vado a mettere la lista che voglio andare a copiare ad esempio parole quindi andando a creare una nuova lista in questo modo sostanzialmente cosa ho fatto creo la lista e prendo tutti gli elementi di quella che gli ho passato e li inserisco in quella nuova attenzione inserisco gli elementi non inserisco i nodi della lista quindi la nuova copia sarà assolutamente indipendente dall'altra ma punterà agli stessi elementi quindi non è che duplico il contenuto e quindi le stringhe che erano puntate dalla prima lista saranno le stesse puntate dalla seconda e ricordiamoci che nella lista io ho dei riferimenti ai valori che ho inserito nella lista non ho i valori stessi avendo una copia la copia sostanzialmente resta tale e quale mentre invece vado a modificare in questo caso l'originale e la copia resta tale e quale e vedete che la copia in questo caso non è stata modificata ma invece ho cambiato l'ordinamento delle altre domanda quindi se io modifico un elemento in una copia viene modificato anche l'elemento nella lista originale sì ora non posso farlo con le stringhe perché le stringhe sono immutabili ma se gli elementi della mia stringa scusate della mia lista non sono immutabili immaginiamo la classe persona che abbiamo utilizzato in tanti esempi precedenti se vado a modificare un elemento della lista questo ovviamente sarà sempre lo stesso tutte le liste puntano a quello e quindi sì andando a scandire le varie liste mi ritrovo dei valori che sono diversi ok la lista ovviamente rappresenta il tipo di dato che viene utilizzato più frequentemente e come vi dicevo è importante ricordarsi di utilizzare l'interfaccia piuttosto che la classe per la propria in modo che io possa cambiare l'implementazione senza particolari problemi l'idea è che io voglio utilizzare una interfaccia la più generale possibile in modo da non mettere tanti vincoli su chi in un momento successivo andrà a modificare l'implementazione questo è il motivo per cui ad esempio molti dei metodi ad esempio questo di copia riceve come parametro non una lista ma bensì una collezione per cui io potrei creare una lista non a partire da un'altra lista necessariamente ma da una collezione e la collezione vi vi ricordo dalla slide iniziale che abbiamo visto la collezione è l'interfaccia di base di liste code e set domanda quindi potrei convertire un set in una lista allora non userei la parola convertire ma sì posso costruire una lista a partire dagli elementi che stanno in un set e viceversa posso costruire un set a partire dagli elementi che stanno in una lista la differenza la differenza sostanzialmente è che sebbene siano due dei contenitori il comportamento poi è diverso perché all'interno di un set gli elementi non possono essere inseriti più di una volta quindi non ci sono elementi duplicati domanda ho provato a modificare allora scusate che torno un attimo qui modificato un elemento nella lista ma è restato uguale all'interno dell'originale attenzione io qui non posso andare a modificare gli elementi perché gli elementi sono stringhe e le stringhe sono immutabili quindi di fatto se tu vai a modificare un elemento non vai a modificare l'elemento vai a sostituire l'elemento con un altro ecco l'altro l'altro metodo che non abbiamo visto qui è parole punto set il metodo set permette di andare a sostituire un valore con un elemento della lista con un altro però l'elemento non viene modificato l'elemento resta sostanzialmente lo stesso per cui se vado a mettere parole zero e qui vado a mettere una tutto maiuscolo il risultato è questo ok quindi ho modificato questo ma non ho modificato l'elemento ho modificato semplicemente ho sostituito l'elemento con un altro ok se volete verificare il fatto che modificando un elemento di una lista viene sostanzialmente visto modificato anche dall'altro lo dovete fare con una classe che sia modificabile quindi ad esempio la classe persona che abbiamo utilizzato negli esempi delle lezioni scorse ok bene a questo punto è il momento di fare una pausa ci riflettiamo un attimo sopra ci rilassiamo e riprendiamo tra circa 15 minuti verso le 11 e 35 ok allora domanda sulla type Azure rispetto alla funzione sort allora io ve l'ho riscritta qua ma è sostanzialmente come scritta la funzione sort dentro collection ma sostanzialmente anche simile a come è scritta la funzione sort in arrays la domanda è all'interno di sort CMP come verrà considerato verrà considerato un CMP di object allora qui dentro sostanzialmente essendoci una type Azure vuol dire che qui io posso avere un comparatore di una qualunque classe che è una super classe di T ok quindi in pratica a me va bene qualunque se invece di mettere così lo potremmo scrivere in quest'altro modo T virgola C super T qui vado a mettere C lo scrivo in una maniera un pochettino approssimata ok è come se avessi due parametri con i vincoli che ho spostato qua ok questo non è sinteticamente corretto ma è giusto per capirci io a C posso sostituire qualunque cosa che sia una super classe di T ok adesso ve lo riscrivo in maniera corretta in modo che il codice sia giusto vuol dire che qui dentro con la type Azure in fase di compilazione il compilatore andrà a sostituire qui praticamente object e quindi farà tutti i controlli con object ok ovviamente sapendo che dall'esterno comunque il comparatore è è un comparatore corretto ok e quindi i metodi sono sono fatti in maniera corretta ok quindi è un comparatore compatibile con con T e quindi verrà fatto poi non verrà fatto un cast ma verranno poi chiamati i metodi giusti diciamo che i tipi generici sono un po' complicati quando cerchiamo di andare a ragionare sui singoli passaggi che vengono fatti dal dal compilatore ma ci permettono di scrivere del codice che è abbastanza intuitivo come quello che avevamo qua ok a questo punto abbiamo visto il primo insieme di classi non torno su i dettagli di set eccetera magari ci ritorniamo dopo domanda nella riga 49 A e B li utilizziamo come string e non come obbio certo la type ratio viene fatta all'interno delle classi o dei metodi generici all'esterno il compilatore prende il metodo o la classe sostituisce a T il tipo che ha inferito e fa tutti i controlli come se ci fosse una nuova variante di di sort che ha esattamente quei tipi e quindi qui A e B diventano string perché in base all'inferenza scopre che qui abbiamo un comparatore che deve essere di una qualunque superclasse di T qui verifica che A e B possono essere string quindi inizia a sostituire a T string e il tutto funziona e quindi ce li sostituisce quindi dall'esterno i tipi vengono utilizzati all'interno di sort invece viene fatta la type arrasure sostanzialmente perché perché in questo modo il compilatore ne compila soltanto uno se no dovrebbe avere tante copie del metodo sort con tutti i possibili tipi domanda posso passare l'implementazione di un comparatore alla funzione index of no index of funziona esclusivamente tramite il equals quindi quando io ho il metodo parole punto index of l'unico modo di andare a verificare se un elemento è presente è usando non tanto l'ordinamento ma bensì il metodo equals ok e il metodo equals è unico quindi non ho un mentre per l'ordinamento ho l'ordinamento naturale che è dato dal metodo compare to dentro la classe e ho anche il comparatore quando ho a che fare con l'index of quindi la ricerca di un elemento all'interno di una lista qui funziona soltanto la corrispondenza e ho equals e equals non ha una variante diciamo esterna ok quindi la risposta è no perché di qualsi ce n'è uno solo e non ci sono degli equalizer o classi analoghe al compare to per fare semplicemente il confronto ok allora vi creo un'altra classe così manteniamo gli esempi separati non troppo complicati vi faccio esempi mappe e quindi andiamo a vedere l'altro l'altra grossa famiglia di interfacce e classi all'interno di faremo delle collezioni che sono le mappe ovvero i contenitori associativi l'interfaccia di base e map a cui facciamo corrispondere sostanzialmente due elementi essendo due elementi di tipi diversi l'interfaccia map e poi le classi che la implementano hanno due parametri di tipo che si chiamano kiv ok key e value ok per cui abbiamo ad esempio string e integer map esattamente come tutte le altre interfacce del framework collection sta in java.util allora fatemi mettere numeri uguale a null ok a questo punto me l'ha riconosciuto e mi propone di importare map da java.util come prima metto uguale a null e poi dopo ragioniamo su le varianti di mappe che posso utilizzare vi anticipo come vi ho detto velocemente prima le due grosse implementazioni dell'interfaccia map sono con un hash table o con un albero di ricerca dopo vediamo anche vantaggi e svantaggi di queste due alternative in termini di prestazioni una volta che ho una mappa cosa posso fare posso fare numeri punto non è un add nel senso che non c'è un'aggiunta in testa in coda ma semplicemente un metti dentro la mappa questa coppia in modo che io possa dopo restituire possa recuperare il valore in pratica della chiave quindi la funzione si chiama put e ha due parametri chiave e valore quindi diciamo che facciamo la mappa dei numeri romani usiamo integer perché esattamente come tutti i tipi generici i parametri di tipo devono essere delle classi non possono essere dei tipi primitivi ecco a questo punto un discorso che avevo fatto all'inizio forse la prima lezione quando avevo presentato Java avevo detto che Java è un linguaggio quasi puro questa quasi purezza è dovuta al fatto che i tipi primitivi e le classi non sono intercambiabili quindi non posso utilizzare int ma devo utilizzare integer quindi questa dualità tra i tipi primitivi e le classi wrapper rende il linguaggio Java un linguaggio non puramente ad oggetti nel senso che ci sono i tipi primitivi che non sono degli oggetti lo vediamo lo vediamo bene in questo caso i parametri di tipo dei tipi generici devono essere delle classi e non possono essere dei tipi primitivi quindi ho delle classi wrapper con tutti i svantaggi del caso nel senso che ho boxing e un boxing devo andare a fare una new quando ho bisogno di un nuovo oggetto quindi ho un po' di svantaggi allora 1, 2, 3 4 5 6 7 8 mettiamo che 9 e 10 così abbiamo tutti i numeri e poi possiamo fare qualche esempio un po' più interessante 8 9 10 quindi il metodo put cosa fa? prende la chiave e il valore quindi in questo caso le chiavi sono le stringhe che rappresentano i numeri romani il valore è il valore numerico inteso come integer del nostro del valore del numero in numeri romani quindi tanto per essere chiari chiave virgola valore anche i parametri ovviamente della della mappa di tipo il primo è la chiave e il secondo il valore allora fino a questo punto sono simmetrici il momento in cui chiave e valore non sono più simmetrici è il momento in cui io voglio andare a fare l'operazione inversa int n uguale a numeri punto get e voglio andare a sapere che numero è iv e lo faccio con quel metodo che si chiama get se non ho scritto stupidaggini vabbè non ho scritto stupidaggini nel senso che ho messo null qua l'idea è che il metodo get prende la chiave e restituisce il valore 4 ok c'è null pointer exception ovviamente perché numeri l'ho messo qua da null quindi è ovvio a questo punto le due varianti di mappe sono hash map oppure tree map hash map ovviamente sintaticamente non è corretto quindi hash map deve essere importato da java.util esattamente come tutti gli altri e tree map pure ok quindi uno dei due mi permette di fare tutte le operazioni sulla mappa esattamente come prima vale il discorso che se io utilizzo numeri di tipo map posso in un secondo momento andare a sostituire l'hash map con la tree map e viceversa risolvere il problema ok a questo punto rieseguo e ottengo ovviamente quattro come mi aspettavo ok domanda i controlli sulle chiavi duplicati sono fatti in automatico sì quindi se io vado a fare un'altra operazione di numeri punto put so x invece di mettere 10 vado a mettere 100 va tutto bene il risultato è che io ho sostanzialmente sostituito al valore precedente quello nuovo ok la chiave resta tale e quale quello che cambia è il valore per cui se io vado a fare un numeri punto get di x a questo punto invece di ottenere 10 come avrei ottenuto prima lo faccio prima e dopo x freccia più invece di ottenere 10 come avevo ottenuto prima ottengo 100 l'operazione di put sovrascrive il valore precedente ovviamente questo vuol dire che le chiavi sono uniche ok quindi attenzione a quando scegliete le chiavi per le vostre mappe perché devono essere generalmente uniche altrimenti invece di aggiungere tanti valori andate a sovrascrivere tutti i valori e il risultato è che ne avete soltanto uno ok se vi ritrovate nel caso in cui dato una chiave avete più valori il risultato è che non potete utilizzare una mappa pur e semplice ma dovete utilizzare una mappa che ha come valori non il valore che volete memorizzare ma una lista di quei valori quindi possiamo utilizzare una mappa che ha come valori delle liste ok ci ritorniamo perché poi vedremo che questo tipo di struttura è utile ma per il momento ricordatevi che le chiavi sono uniche quindi data una chiave c'è un unico valore allora il tree map come possiamo anche leggere nella documentazione ok sì è un albero binario non mi ricordo più il tipo esatto forse ce l'ho scritto da qualche parte qui nelle slide non mi ricordo la variante di albero che viene utilizzata sì è un red black tree quindi è un albero bilanciato che permette di avere una una ricerca è anche un inserimento che sono sostanzialmente log n quindi abbiamo una complessità logaritmica ovviamente il bilanciamento viene fatto in automatico sì noi non dobbiamo preoccuparci di nulla ok tra poco torniamo su sulle due implementazioni vediamo gli aspetti di dettaglio e anche di prestazioni però sì hash map e tree map sono dei pacchetti pronti che noi possiamo utilizzare senza preoccuparci di dettagli quindi i due metodi fondamentali delle mappe sono get e put ok è l'obiettivo per cui vado a utilizzare questo tipo di contenitore perché mi serve avere un'associazione chiave e valore qui ho messo i numeri romani corrispondenti al valore potrebbero essere le matricole e le persone ok l'idea è tutte le volte che io ho la necessità data una chiave un codice di recuperare le informazioni associate a quella chiave la risposta è utilizzo una mappa ok perché perché sostanzialmente è molto efficiente altri metodi che possono essere utili sulle mappe sono uno un metodo che mi consente di andare a verificare se una chiave è presente nella mappa quindi numeri punto contains key c mi restituisce ovviamente false perché non esiste una chiave che si chiama c nel momento in cui invece vado a risistemare i valori che avevo prima a questo punto la chiave c la troviamo ok ho ho rimpiazzato x con 10 perché l'avevo rimpiazzato con 100 e ho messo la nuova chiave c e 100 quando chiamo put il metodo put oltre ad aggiungere un nuovo elemento mi restituisce anche il valore precedente ok quindi ho sostanzialmente il valore che stavo sostituendo altrimenti restituisce nulla domanda contents key è lo stesso che c'è nel test sì allora mi pare di averlo utilizzato nei test perché utilizzo una mappa per andare a verificare che ci siano tutti gli elementi quindi sì i test utilizzano le mappe due chiavi possono avere lo stesso valore sì ovviamente due chiavi possono puntare allo stesso valore qui che so se 4 decidiamo di poterlo scrivere anche come i i il valore lo stesso ok questi qua li ho messi come int ma ricordatevi che qui c'è un unboxing il boxing sugli interi utilizza una serie di valori già predefiniti quindi quei due lì quei due 4 corrispondono sostanzialmente lo stesso oggetto nessun problema invece dato una chiave alla chiave corrisponde uno e un solo valore quindi posso andare a verificare se è presente una certa chiave nella mappa e quindi fare un'operazione di get dopo aver verificato che quella chiave è presente oppure fare un'operazione di put soltanto se quella chiave non è già presente ok a questo punto posso anche sapere tutte le chiavi ok posso avere un set di stringhe chiavi uguale a numeri punto keyset questo mi retituisce l'insieme delle chiavi è un insieme a sottolineare il fatto che effettivamente le chiavi sono singole non duplicate quindi uniche all'interno della nostra mappa per cui se voglio posso stampare le mie chiavi in questo modo a volte può essere comodo accedere ai valori non tramite chiave ma bensì avendoli tutti uno dopo l'altro quindi come una lista una collezione questo lo posso fare tramite il metodo values il metodo valios mi restituisce una collezione di in questo caso integer valori uguale numeri punto valios è collection ovviamente da importare come tutti gli altri perché mi restituisce una collezione perché sostanzialmente le varie implementazioni della dell'interfaccia map possono utilizzare delle strutture dati diverse quindi l'idietro potrebbe esserci una lista potrebbe esserci qualcosa di diverso quindi l'idea è io restituisco un oggetto che implementa l'interfaccia collection ma non voglio fornire ulteriori dettagli allora domanda perché abbiamo usato set allora ho usato set io perché il metodo key set lo vedete qua restituisce lui un set restituisce un set come dicevo un attimo fa proprio per sottolineare il fatto che le chiavi sono univoche quindi non ci possono essere chiavi duplicate ok avrei potuto restituirmi una lista una collezione qualunque altro contenitore chi ha progettato questo insieme di interfaccia ha deciso di restituire un set per sottolineare il fatto che lì comunque non ci sono valori duplicati altra domanda qual è la logica che viene utilizzata per determinare l'ordine delle chiavi estratte nel set non c'è una logica nel senso che non è dato nessuna garanzia dipende dall'implementazione che sto utilizzando se utilizzo un un preset le chiavi sono restituite in ordine di ordinamento ok perché ovviamente se immaginate un albero come è fatto ovviamente le chiavi se io faccio una visita in ordine le chiavi sono ordinate è l'ordinamento che mi permette di costruire l'albero e di fare la ricerca quindi ovviamente le chiavi in in un tree map sono ordinate su un hash map le chiavi sono ordinate in base al codice di hash che quindi non necessariamente corrisponde all'ordinamento naturale delle chiavi quindi in questo caso ve lo stampo direttamente vediamo in che ordine saltano fuori invece i valori i valori sono ordinati in base all'ordinamento delle chiavi che di nuovo dipende dal da quello che c'è dietro quindi a questo punto vedete che le chiavi sono ordinate con due quattro sei cento cinque sette tre dieci uno otto quattro e nove ok i valori sono ordinati allo stesso modo ovviamente quindi i due le due collezioni hanno gli elementi corrispondenti è ovvio che però se utilizzo un hash set questi sono ordinati in un ordinamento che dipende dal codice di hash domanda chiavi non ha bisogno di new no chiavi non ha bisogno di new perché è il valore che mi restituisce key set quindi dentro key set probabilmente ci sarà una new ma è il metodo key set che mi restituisce l'insieme domanda in una collezione sono ammessi valori duplicati sì se io utilizzo un set quindi una classe che implementa l'interfaccia set sono sicuro che in quella classe non posso aggiungere elementi duplicati o meglio elementi duplicati vengono scartati se utilizzo una collezione che dietro può avere una lista possono comparire ovviamente elementi duplicati non c'è nessun vincolo su quello domanda sempre sull'ordinamento delle chiavi potrei chiedere di avere le chiavi in un certo ordine no perché i dettagli interni della classe sono nascosti quindi non posso dire fammi un ordinamento in pre-order post-order quello che la struttura interna è nascosta nel senso che non è garantito che il tipo di algoritmo resti lo stesso non è garantito che l'albero sia binario ternario quaternario ennario l'unica cosa che è garantita è che la complessità di inserimento e di ricerca siano logaritmiche ok altra domanda avremmo potuto scrivere set invece di collection allora no avremmo potuto fare il contrario qui invece di set avrei potuto anche scrivere ve lo faccio subito sotto e commento questo avrei potuto scrivere collection perché vi recupero il diagramma dell'interfaccia così è più chiaro un set l'interfaccia set implementa l'interfaccia collection la quale la sua volta implementa quindi ovunque ho un riferimento di tipo collection quel riferimento può puntare a una qualunque classe che implementi set queue list sorted set eccetera ovviamente non è vero il viceversa ok per cui se torno qui visto che mi sono perso il cursore ok visto che key set restituisce un set posso utilizzare un riferimento di tipo collection per puntare a quel set oppure posso utilizzare anche per dire un riferimento di tipo iterable sono tutti corretti values invece lo vediamo qua restituisce una collezione restituisce una collezione è un po' più generale perché nella collezione ovviamente abbiamo detto più volte che possono esserci duplicati tra i valori ma non tra le chiavi quindi nella collezione dei valori io potrei avere duplicati quindi abbiamo una collection qui invece di collection avrei potuto mettere iterable ok perché iterable è ancora l'interfaccia più su di collection ma di solito non si usa ok altra domanda nel caso della collection valori potrei utilizzare un add teoricamente sì nel senso che posso fare un valori punto add di abbiamo degli interi quindi 42 scusate 42 è un intero cosa succede? beh non ha molto senso ok infatti unsupported operation ok quindi questa collezione è una collezione tra virgolette chiusa nel senso che non è più modificabile il compilatore però non lo sa perché una collezione è una collezione dal suo punto di vista ok e quindi il compilatore ce lo lascia fare a runtime ovviamente non ha senso andare ad aggiungere un valore senza specificare la chiave perché quella collezione lì nasconde i valori che stanno dentro la mappa ok quindi da un punto di vista sintattico sì lo posso fare il compilatore me lo lascia fare perché su una collezione posso firmare il metodo add in termini pratici non ha nessun senso e infatti a runtime quella collezione mi dice guarda che non puoi aggiungere perché l'operazione non è supportata quindi la sintassi è ok errore a runtime domanda quindi è sempre possibile fare un upcast mentre per fare un downcast tra collezioni allora no non è vietato però è un qualcosa che ovviamente sono io che devo sapere che funziona quindi posso fare un set di string diciamo set chiavi uguale a chiavi ovviamente questo non me lo lascia fare perché è un è un downcast però posso mettere io un cast qui esplicito collection di string scusate non collection ma messi set collection è quello di partenza set di string e lui me lo lascia fare perché sono io che garantisco che in realtà lì dietro c'è un set in questo caso è pure corretto perché ovviamente è il risultato di key set e quindi io so che la mappa mi restituisce un set domanda come mai add restituisce un errore la add su i valori mi restituisce un errore perché quei valori lì sono modificabili soltanto tramite la mappa quindi il metodo values mi dà una fotografia all'istante di quelli che sono i valori dentro la mappa e non li posso cambiare quindi è una foto diciamo bloccata e non è una copia di quei valori ho esattamente quei valori e non li posso cambiare quindi quella lista è bloccata perché perché sostanzialmente quello che succede è che si appoggia a una lista interna di valori e quella lista interna ovviamente io non la devo poter modificare poi è vero ragionevolmente potrebbe essere anche una copia quindi una lista completamente separata su cui io vado a pasticciare però non è così nel senso che questa lì restituisce una collezione dei valori la collezione è legata alla mappa e quindi i cambiamenti nella mappa portano cambiamenti nella collezione quindi se io vado a rimpiazzare un un elemento nella mia nella mia mappa anche dopo aver ottenuto values questi cambiano quindi sono sono legati non è una un qualcosa che copio in quell'istante e poi resta scollegato no la lista dei values è un qualcosa che resta comunque collegato alla mappa il motivo per cui non lo posso verificare perché se no nella mappa mi ritroverei per dire un nuovo valore ma non avrei la chiave cosa che ovviamente non ha senso c'è anche scritto che la collezione supporta scusate la cancellazione di elementi ma ovviamente non l'aggiunta nel senso che se io cancello un valore nella mia mappa la mappa può restare coerente andando a cancellare il corrispondente la corrispondente chiave se faccio aggiungo un valore non saprei quale chiave mettere domanda sul downcast che ho fatto qua il downcast è meno restrittivo beh no sostanzialmente faccio un cast da una collection a un set quindi sostanzialmente segue le stesse regole che avevamo visto anche con le classi impiegato manager nel senso che se qui dietro se io facessi lo stesso cast per dire sotto se io facessi un set di integer e faccio set valori uguale cast a set di integer di valori il compilatore me lo lascia fare ovviamente otteniamo un class cast exception perché lì dietro non c'è un set ma c'è sostanzialmente una una collezione e quindi le regole sono sostanzialmente le stesse visto che set è una interfaccia una sotto interfaccia di collection posso tranquillamente scrivere quel cast il cast verrà poi verificato a runtime dalla java virtual machine per capire se effettivamente dietro c'è una una conversione legale ovvero se la classe dell'oggetto puntato da valori effettivamente implementa l'interfaccia set se così non è viene generato un class cast exception ok allora visto che abbiamo parlato delle due classi vi riepilogo velocemente che cosa vuol dire in termini di implementazioni ok quando ho una schmap inserimento e ricerca sono sostanzialmente costanti sostanzialmente sapete benissimo che in realtà non è sempre così l'hashmap ovviamente è basata su una su una tabella di hash che viene riallocata quando supera un certo fattore di carico cioè quando è piena oltre a il 75% ok quindi posso mettere ci sono dei costruttori di hashmap che mi permettono di andare a specificare qual è il limite superiore del load factor oltre cui la la tabella deve essere ridimensionata e la tabella ha una capacità iniziale dimensione iniziale che per default è 16 quindi quindi quando supero i 12 elementi nella mia tabella automaticamente questa viene ridimensionata non sto a rispiegarvi come è fatta la struttura ma ho una tabella che punta a un array che rappresenta i bucket i bucket vengono indigizzati tramite l'hashcode della chiave e dopodiché vado a creare quelle che sono delle entry ovvero degli oggetti puntati dai vari elementi del bucket che hanno due campi due attributi che sono la chiave e il valore la teoria su le tabelle di hash sicuramente ce l'avete più fresca voi esiste anche una variante di tabella di hash dentro per implementare i set perché perché quando ho un set l'operazione fondamentale da fare è capire se quando inserisco un elemento quell'elemento c'è già oppure no e quella ricerca deve essere più efficiente possibile ovviamente possibilmente non lineare se la faccio con una tabella di hash sono in grado immediatamente di capire se dato un hash esiste un elemento presente l'efficienza di un hash map è tanto maggiore quanto più ho un codice di hash che mi dà indici all'interno della mia bucket list più sparsi possibili in caso di collisioni cosa faccio uso un meccanismo che è quello del chaining quindi faccio puntare la stessa bucket a un elemento e concateno con la lista linkata le varie entry ovviamente quando ho delle catene lunghe riduco l'efficienza ok non vi annoio su questo perché sicuramente ad APA l'avete già visto domanda è possibile scegliere la funzione di hash da utilizzare allora la risposta breve è no la risposta lunga è la tabella la funzione utilizzata è il metodo hashcode che è definito nella classe object e che ovviamente se scrivo una nuova classe posso andare a definire se utilizzo come chiave una classe predefinita ovviamente il codice della funzione hashcode è già dato quindi se utilizzo come chiave una stringa non posso cambiare il codice di hash se però vado ad utilizzare invece di una stringa una mia classe che ho definito io appositamente io in quella classe posso ridefinire la funzione hashcode e quindi definire esplicitamente una funzione di hash quindi in sintesi sì e no dipende dai casi ok l'altra variante abbiamo detto è la tree map che è basata su un red black tree non mi ricordo i dettagli dell'algoritmo magari voi sì la cosa fondamentale è che permette di avere un albero bilanciato andando a avere un tempo di inserimento e di ricerca logaritmico rispetto a un tempo lineare che avrei con una ricerca in una lista è un grande vantaggio ok soprattutto per grandi numeri le chiavi ovviamente sono mantenute in ordine perché l'albero ovviamente per fare la ricerca deve avere le chiavi ordinate qui invece posso andare a definire come ordinare le chiavi perché se non specifico nulla uso l'ordine naturale delle chiavi ma posso andare a fornire un comparatore quindi quando costruisco un una dream up posso passare un parametro addizionale che è il comparatore da usare per fare i confronti e quindi in questo caso le chiavi sono ordinate come decido io secondo il comparatore che fornisco quindi qui ho la possibilità di avere un po' di personalizzazione questo è molto comodo perché molto spesso mi capita di voler tenere voler avere un accesso tramite chiave però mantenere gli elementi ordinati secondo qualche criterio e quindi questo tipo di classe sebbene leggermente meno efficiente perché logaritmico è sicuramente peggio che costante però mi permette di mantenere gli elementi ordinati e il costo di questo mantenere gli elementi ordinati è logaritmico se invece gli elementi non sono ordinati li devo ordinare ogni volta ovviamente il miglior algoritmo di ordinamento è n log n e quindi è decisamente peggio questo mantenendomi ordinati mi permette una complessità molto ridotta con il vantaggio di avere già l'ordinamento pronto legato al tree map c'è anche un tree set che di nuovo utilizza il red black tree e anche in quel caso mi mantiene gli elementi ordinati non è un set in realtà è un sorted set che è un interfaccio ancora più specifico poi torneremo velocemente sui sui set ma era più importante parlare delle mappe che sono una categoria molto molto importante ovviamente un vincolo fondamentale che ho quando utilizzo una tree map è che le chiavi devono essere ordinabili oppure devo fornire un comparatore il vantaggio è che le chiavi sono mantenute ordinate e di conseguenza anche i valori corrispondenti i valori sono ordinati in base alla chiave efficienza questi fatti su un intel core i9 con 8 core in realtà il core era unico utilizzato 100.000 richieste domanda le mappe sono tabelle di simboli non so che cosa sia la tabella di simboli ok ok se tabella di simboli è il nome di dizionario sì le mappe sono implementazione di dizionario sì ok il termine tabella di simboli non mi piace nel senso che la symbol table normalmente indica un qualcosa di molto più specifico ok se qualcuno di voi seguirà un corso di compilatori vedrete che la symbol table è sì un dizionario ma molto più specifico dizionario mappe sono dei termini che ok più più corretti in generale il consiglio è utilizzate il termine mappa o dizionario perché sono più più adatti symbol table è un uso più specifico del dizionario ok poi noi utilizzeremo il termine mappa perché ovviamente si chiama map in inglese quindi è più intuitivo ok velocità e efficienza temporale di ricerca usando diverse strutture dati se facciamo 100.000 ricerche all'interno di un contenitore che ha 100.000 o 200.000 componenti elementi scusate il risultato è abbastanza diverso in funzione del tipo di struttura che utilizziamo se abbiamo un hash map e facciamo 100.000 ricerche che la struttura abbia 100.000 o 200.000 elementi me lo risolvo in 3.000 secondi molto molto efficiente se ho una tree map se io ho 100.000 o 200.000 elementi ovviamente passo da 60 a 65 millisecondi vedete che comunque abbiamo un ordine di grandezza da hash map a tree map quando ovviamente le dimensioni del del nostro contenitore sono grandi parliamo di 100.000 elementi se abbiamo poche centinaia di elementi hash map e tree map in termini pratici non hanno nessuna differenza però vedete che incrementando la dimensione passo da 60 a 65 millisecondi se la stessa ricerca la faccio su una relista passo da 40 secondi a 110 quasi due minuti soprattutto vedete che l'ordine di grandezza rispetto alla tree map non è 1 ma è 1000 quindi 3 ordini di grandezza 4 ordini di grandezza rispetto a un hash map se una linked list ecco le stesse ricerche fare 100.000 ricerche quindi scansioni lineari dell'interno della nostra linked list su 100.000 elementi porta via più di un'ora non ho riportato il tempo necessario per fare 100.000 scansioni su 200.000 elementi perché ovviamente se questo è più di un'ora questo è ok domanda in questo caso l'albero come lo consideriamo ordinato se consideriamo ad esempio una una tree map che ha come chiave una stringa l'ordinamento delle stringhe è quello naturale in realtà l'ordinamento specifico che utilizziamo è poco rilevante è rilevante il tipo di struttura dati che usiamo perché che io l'ordini in ordine alfabetico diretto inverso o un qualche altro tipo di ordinamento comunque ho un albero che ha una certa forma e quindi la ricerca è comunque logaritmica ok poi ovviamente posso trovare degli ordinamenti che siano particolarmente strambi e che mi pregiorino le prestazioni però normalmente dato un ordinamento ragionevole la ricerca comunque è garantita essere logaritmica allora no un tree map abbiamo detto è un red black tree quindi non è uno heap se volete utilizzare uno heap dovete l'implementazione di uno heap è fatto tramite la coda tramite la classe Q questo è pensato per avere la la velocità massima di ricerca per cui è chiaro che ai fini pratici a meno che voi trattiate giga di dati avere un hash map una tree map non cambia tantissimo ovviamente 10 volte più veloce 20 è già qualcosa ok la vera discriminante è utilizzare una mappa rispetto a utilizzare una lista quindi se voi avete la necessità di fare una ricerca tramite chiave e non utilizzate una mappa state facendo una grandissima stupidaggine questo è fondamentale oltretutto la ricerca all'interno di un array list devo andare io a scrivermi il ciclo la ricerca all'interno di una mappa vuol dire chiamare il metodo get quindi oltre a essere molto più efficiente il risultato è che scrivo anche meno codice quindi fondamentale ricordare di utilizzare la struttura dati corretta poi la scelta tra le varianti è di secondaria importanza ok quindi i metodi base ripeto sulla mappa sono il put per inserire la coppia chiave valore il get per ottenere il risultato quindi il valore data la chiave e posso utilizzare l'abbiamo visto il contents key ecco scusate non trovavo l'esempio il contents key per andare a vedere se un certo valore è contenuto dentro tenete presente che l'alternativa al contents key è andare a fare un'operazione di get me lo scrivo qua sotto questo momento perché è errato se io faccio integer x uguale numeri punto get e vado a mettere di essendo non presente il risultato è che x è uguale a nulla ok quindi quindi if x è uguale a nulla system out print ln non trovato else else system out println x quindi se io eseguo il mio codice ovviamente mi dirà non trovato questo equivale a fare un contents key anche se potrei andare a complicare le cose facendo un numeri punto put d e null quindi potrei associare a una certa chiave il valore riferimento null quindi il contents key in questo caso mi dice che è presente la chiave però il get continua a restituirmi null ok questa operazione quindi mettere un null dentro una una mappa è tendenzialmente da evitare perché il metodo get si assume che restituisca null quando non c'è niente se faccio così mi restituisce null anche quando c'è qualcosa e quindi non è meglio evitarlo ok ok poi abbiamo già parlato degli insiemi l'abbiamo menzionati qua ma ve li riporto qui velocemente io posso avere un set di stringhe nomi uguale e qui ho le due varianti che sono new hash set oppure new tree set le strutture dati sono sostanzialmente uguali a quelle della hash map e della tree map ovviamente l'obiettivo qui non è associare una chiave a un valore ma semplicemente andare a vedere in maniera molto efficiente se un certo valore è presente o meno prendiamo la prima se io faccio nomi punto ad mario ad maria un'altra volta un'altra volta println nomi allora quando cerco di aggiungere un elemento per la seconda volta il risultato è sostanzialmente che quell'elemento viene ignorato ok per cui il risultato finale è che avrò semplicemente due elementi ok ho due println ok ho eseguito due volte il codice e non me l'aveva cancellato ok quindi la stampa è ovviamente degli elementi fatti uno dopo l'altro ok se ho un hash set non è detto che i valori vengano mantenuti in ordine alfabetico ok perché ad esempio mario in questo caso ci finisce in fondo se invece di utilizzare un hash set utilizzo un tree set automaticamente gli elementi sono mantenuti in ordine con una complessità logaritmica a ogni inserimento per cui nel caso in cui mi interessa avere un insieme di elementi unici ordinati il risultato cioè la soluzione è quella di avere un tree set anche qui ovviamente la complessità è logaritmica quindi se ho insieme molto grandi potrei avere delle prestazioni che non sono eccellenti però di nuovo è opportuno valutare caso per caso non vi ho parlato delle code che tutto sommato hanno degli usi abbastanza specifici quindi non generali è importante invece sapere utilizzare molto bene capire quando utilizzare liste e mappe che sono le due strutture dati fondamentali i set sono utili ma fino a un certo punto ovviamente è stato di capire come possiamo andare a utilizzare queste strutture dati per fare delle operazioni un po' più complesse e questo sarà quello di cui parleremo con qualche esempio un po' più concreto nella prossima lezione è possibile domanda è possibile fare collezioni di collezioni sì come vi accennavo prima quando parlavamo di delle mappe io potrei avere una mappa che ha come chiave una stringa e come valore ad esempio una lista di stringhe list in questo caso non l'ho importato ma l'importo al volo ok o posso avere un set di set un set di set è un pochettino qualcosa di strano nel senso che poi come faccio a valutare se due set sono identici quindi lo sto duplicando ma una lista di set sì una mappa di liste una lista di liste tutto questo ovviamente è possibile anzi l'uso di questo tipo di strutture dati se devo fare delle elaborazioni di dati non troppo semplici è abbastanza comune ecco questo è uno degli esempi che vedremo nella prossima lezione per capire come gestirli e come utilizzarli direi che con questo per oggi possiamo chiudere termino la